Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Perla Vatiero è incinta. Da qualche giorno si sta diffondendo l'ennesima notizia in merito ad una presunta svolta nel rapporto che vede come protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Si dice infatti che qualcosa di bollente stia bollendo in pentola e che riguarderebbe proprio la giovane vincitrice del talent. Perla Vatiero aspetta un bambino. I due sono stati avvistati a una festa di compleanno in atteggiamenti sospetti, quasi a voler nascondere il tutto. Sono state scattate davvero moltissime foto della serata e dopo essere usciti dal party i due si sono recati in un fast food per prendere uno snack da consumare per la fine della serata. Proprio in questa circostanza è emerso un dettaglio che confermerebbe queste ipotesi. A quanto pare Perla avrebbe fatto delle storie su Instagram volte ad informare come Mirko avesse deciso di accontentare i suoi desideri, utilizzando delle parole che hanno subito attirato l'attenzione dei followers. La dolce perlina ha quindi scritto un post corredato di foto con la dicitura. Lui che accontenta le mie voglie notturne. Ovviamente le voglie vengono spesso ricondotte alla fase della gravidanza. Motivo per cui tantissime persone hanno ipotizzato questo per la dolcissima perla. Ecco dunque perché c'è chi pensa che la stessa possa essere incinta, anche se ovviamente nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie. Grazie.